No, non solo io. Siamo la nostra società aerea oggi e vi preghiamo per i vostri frutti di volo in Italia, anche noi della Delta, siamo le vostre ali nel mondo. Grazie e buon pomeriggio. Iniziamo nel barco in cinque minuti circa. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. . 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 Sì, è lì dove il polpio vive, fino a lì. Just like the one in Paris. You can't speak the language? What? On the elevator. You what? Already got some of your ones on the elevator. Oh, wait, this was a line. That was a line. That was a line. Oh, okay. I don't know. I don't know. Well, exit, exit which way? You know, there's two different places you can map. Well, go. Grazie a tutti. 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 Oh, man. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 per l'Italia di Cristo. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie. 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 Is that what that is? Part of the manger? Oddly manger? Yes. Thank you. 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 Grazie. 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 Te navigation testico. Hei, Georgie! Giorgie! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Tempoli, eh? It's harder to do it. It's harder to do it. Well, we don't know. We'll find out, won't we?